Dopo un'ora e mezzo di Camera di Consiglio, un cinquantenne accusato di violenza sessuale nei confronti di una diciannovenne è stato condannato al carcere. Sette anni e due mesi di reclusione, questa la pena inflitta all'uomo che nel luglio del 2019 avrebbe approfittato della fragilità di una diciannovenne per poi violentarla, tesi della pubblica accusa accolta dalla Corte. I due si sarebbero conosciuti dopo aver trascorso la giornata insieme e si sarebbero ricati in un alloggio di fortuna a una baracca dove l'uomo passava le notti. Lì, secondo quanto raccontato dalla vittima, si sarebbe consumato lo stupro. Fu la giovane a fuggire a chiedere aiuto e gli agenti della squadra mobile si occuparono del caso e da parte dei medici ci fu l'accertamento di alcune lesioni. La versione dell'imputato difeso dall'avvocato Domenico Nucci è sempre stata totalmente opposta, come ha ribadito più volte in aula, ovvero che la giovane fosse consenziente. Una vicenda comunque molto delicata è che all'epoca dei fatti scosse non poco l'opinione pubblica e che adesso ha avuto il suo primo epilogo. Oltre alla condanna al carcere, la Corte ha disposto per la parte civile anche una provvisionale di 25.000 euro. La giovane era difesa dall'avvocato Beatrice Vanni. Mi soddisfa da un punto di vista professionale, sicuramente sì, certo è una vittoria senza un vincitore perché comunque da un punto di vista emotivo la mia assistita ha subito un danno che probabilmente non verrà mai risarcito oggettivamente. Da un punto di vista ovviamente morale. Lei è comunque soddisfatta anche lei dell'esito della sentenza. È comunque una sentenza che riconosce la responsabilità dell'imputato pienamente. viene comunque riconosciuta una provvisionale a vantaggio della mia assistita, quindi anche quello per noi è comunque un risultato positivo. Certo è che più che altro questa sentenza dovrebbe essere anche un po' un modo per la mia assistita per ricominciare, per mettere un punto a questa brutta storia e quantomeno trovare un po' di pace. Ecco tutto lì, che possa servire anche ad altri, un po' un monito per tante altre persone che subiscono in silenzio e che quindi invece siano portate a denunciare e a dare voce.